Raccolta differenzietta da grigento in corso per le utenze non domestiche. Le imprese non sanno dove conferire l'umido. I carrellati a tutte le utenze commerciali del villancio bonsè sono stati consegnati ed è stato fatto in maniera capillare. I cestini per la raccolta dell'umido, prevista nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato, non vengono però svuotati. I commercianti protestano e alcuni lo fanno anche a gran voce. La raccolta dell'umido, prevista appunto per tre giorni alla settimana, non viene effettuata. Per un piccolissimo dettaglio, l'impresa che si occupa della raccolta differenziata non sa dove conferirlo. Il Comune a quanto pare non ha ancora comunicato niente a riguardo. Il contratto per il servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili prodotti nel territorio comunale era stato affidato alla ditta Giglione Servizi Ecologici di Ioppolo Giancaxio. L'ente ha dunque fatto una prima gara d'appalto che è andata a deserta e poi si è arrivati di recente alla giudicazione del servizio. Se ne occuperà la SEAP, ma le imprese che si occupano della raccolta differenziata devono essere autorizzate dal Comune ad andare a conferire in un determinato punto. Abbiamo scritto, abbiamo chiesto al Comune dove dobbiamo andare a conferire, ha detto l'amministrazione delegato dell'ISEDA Giancarla Longi, ma ancora non c'è stato fatto sapere niente. E mancando l'indicazione su dove andare a conferire, non possiamo raccogliere l'umido. I disagi sono scontati. I disagi sono scontati.